Boom di presenze all'ottava edizione del piano Music Festival di Aiello del Sabato, la rassegna enogastronomica, musicale e d'arte che si è svolta lo scorso fine settimana nella nuova location dell'area del centro sociale. Due giorni intensi di appuntamenti, dalle degustazioni di prodotti tipici aiellesi agli incontri divulgativi e seminari guidati sulla degustazione del vino alle mostre di antiquariato locale. Soddisfatto per il risultato ottenuto, il sindaco di Aiello del Sabato, Antonio Felice Caputo, ha sottolineato come la manifestazione abbia coinvolto un validissimo gruppo di giovani del forum che hanno realizzato un lavoro di grande importanza dalla cura delle scenografie fino alla logistica. Un comune di piccole dimensioni come Aiello, afferma il primo cittadino, ha fatto parlare del fiano e delle sue caratteristiche in campagna, dando il giusto rilievo a questo eccellente prodotto della nostra terra. Dante in Irpinia le associazioni che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, l'associazione italiana sommelier con i banchi d'assaggio del fiano prodotto dalle diverse cantine presenti, l'associazione nazionale assaggiatori di grappa con le degustazioni di grappa di fiano, la federazione italiana cuochi di Avellino con gli stand gastronomici, la condotta slow food di Avellino con laboratori di gusto e seminari degustazione e tanto altro. Artisti di rilievo come Antonella Ruggiero e il re gelato, con la loro grinta e il loro estro creativo, hanno contribuito a rendere suggestiva l'atmosfera di questo singolare appuntamento. Fai comodamente in vacanza, goditi il sole, il mare, rilassati perché appagare il cuore. Dottolo Mobili, a passo di Mirabella.